mi aspetto presa anche perché adesso dopo f5 sto effettivamente minacciando donna per d4 esco un secondo allora giochiamo contro pride scene 15 giocatore italiano vediamo se lo conosciamo fcb former chess plunderer ok ok è scritto in chat che è un onore buona partita ok d5 giochiamo il gambetto di donna lui gioca la difesa ok io lo chiamo la chiamo impropriamente difesa ortodossa ma ultimamente c'è chi fa proprio il 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 nazi su su sotto sotto i commenti su youtube appena si dice una cosa che non è proprio quella giusta eh no ma questa è l'apertura mai sentita vabbè considero chiusa la polemica tra me e il sottoscritto ok alfiere e7 e e3 questo è il gambetto di donna rifiutato classic ok qua siamo al delirio come sempre in chat ok qua diciamo che ci sono tre o quattro approcci che si possono avere col bianco ma facciamo il più il più classico di tutti diciamo veramente il più classico giochiamo cavallo f3 ma ora non è semislava no non credo non lo so non ti so rispondere no dai non è semislava questa grazie pitosk ok arrocco possiamo mangiare giocare alfiere d3 ok c per c per d è una risposta estremamente rara in questo genere di posizioni in genere si mangia di e proprio per risolvere il problema dell'alfiere delle case chiare c per d è è un po' innaturale onestamente però noi andiamo avanti per le nostre per le nostre faccende alfiere d3 h6 alfiere f4 o alfiere h4 insomma non ho idee idee simili donna g6 è una mossa illegale ah tu intendi qua donna g6 sì donna g6 non credo vado tanto bene a6 e ora prepariamo uno dei pacchi classici della posizione dopo arrocco e vabbè arrocco torre c1 h3 è una mossa preziosa qui perché cavallo h5 a volte può essere può essere un problema ok cavallo h5 questa è una mossa fastidiosa effettivamente va bene facciamo alfiere g3 che dobbiamo fa è una specie di una specie di sistema di londra quasi vabbè ma fin tanto che questo alfiere rimane così chiuso il bianco può solo stare meglio qua un po' alla volta torre c1 torre d1 magari giocare anche per e4 ci può stare a un certo punto maestro perché ha mosso l'alfiere? perché dopo alfiere g3 h per g il cavallo si cambia sull'alfiere e la mia struttura è completamente intatta non c'è nessuna debolezza in questo in questa conformazione no? non c'è nessun pedone chiaramente debole invece se se faccio un'altra mossa tipo torre c1 qua dopo cavallo per f4 e per f4 d4 è un pedone isolato estremamente debole non era meglio aprire la f? no anche in questo caso f per g3 e3 diventa debole i miei pedoni si si spaccano non e che cosa me ne faccio della f esattamente? non lo so no 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 che f b5 b5 e ora andiamo avanti torre c1 possiamo fare e4 e4 non mi piace il motivo principale per cui non mi piace è che la posizione si apre e lui comunque ha gli alfieri quindi ha cioè se da una parte mi piace il fatto che si apra perché sono in vantaggio di sviluppo dall'altra i suoi alfieri potrebbero giovarne giovarne rana vabbè continuiamo a fare mosse normali perché dobbiamo sempre pensare torre c1 torre su colonna aperta ma chi ci ammazza qua palmo io giocavo a magic non a quella cazzata di yu-gi-oh però ne sono uscito sacrificare un pezzo leggero per creare due pedoni passati ha senso? questo no 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 un pezzo nel 90% dei casi vale di più di due pedoni se i due pedoni fossero qua e qua ancora ancora ma questi due pedoni cioè prima di diventare pericolosi passano no non diventano mai pericolosi è quello il punto torre a c1 poche idee tanto tanto cuore ruevi mi piace giocare a poker non sono non sono forte come zaccardo tanto cuore e purtroppo l'unica cosa per cui verrà ricordato per sempre è l'autogol contro gli stati uniti il nesso tra gli scacchi e il poker probabilmente è che si diventa forte forti giocando studiando e con un una buona dose di ossessione purtroppo economicamente scacchi e poker c'entrano molto poco e poi è molto basato sul calcolo comunque entrambi i giochi sono basati sul calcolo che nel caso di poker è estremamente più banale rispetto agli scacchi non per menarcela però dai forse è arrivato il momento di fare 4 così quando mangio di cavallo attacco l'alfiere non lo so non ho capito sta alfiere di 6 in realtà vabbè è arrivato Kudrizzai se vi dice ma c'è il blef come se a scacchi non ci fossero i blef e anche a scacchi c'è il culo banna tutto fede banna tutto ok alfiere di B7 questa è una mossa che secondo me il nero avrebbe dovuto risparmiarsi perché adesso posso conquistare altro spazio addirittura con guadagno di tempo e entriamo in una struttura ancora una volta francese in cui lui ha mangiato l'alfiere delle case scure e e il nero ok ha un filo di gioco sul lato di donna ma rischierà molto sul lato di re adesso rischierà veramente molto sul lato di re tra l'altro io sono messo abbastanza bene ho tutti i pezzi buoni l'alfiere in B7 non è non è un gran che e 5 ok vediamo pensiamo a un modo adesso è chiaro cosa deve fare il bianco deve attaccare di qua la struttura glielo sta dicendo però come facciamo qual è il modo ottimale potrei pensare di invertire questi due per creare una batteria decente lungo queste diagonale e per esempio donna E2 alfiere B1 donna D3 cavallo H2 cavallo G4 cavallo per H6 è un'altra idea sicuramente e anche l'avanzata con i pedoni è una possibilità specialmente quella del pedone F diciamo che rientra in qualcosa di standard da fare io direi che tutti questi piani partono con donna E2 diciamo che senza la donna non vado da nessuna parte quindi donna E2 ciao Marcello mi raccomando tutti in chat salutino Marcello vabbè adesso si 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 apre la grande uno dei miei argomenti preferiti sugli scacchi cioè se esiste la fortuna cioè il punto è se il tuo avversario fa una cazzata tu vinci ok però qualcuno che sostiene la non esistenza della fortuna negli scacchi ti può dire ok però è stato un mona lui non è che sei stato cioè non so come dire non è strano se vinci una partita in cui il tuo avversario fa una cazzata donna B6 la fortuna per forza esiste cioè è troppo il caos è nettamente la cosa più potente di tutte quindi come fa a non esistere negli scacchi F6 ok questa è un'ottima mossa da parte del nero che reagisce però si indebolisce anche le case chiare che sono esattamente quelle che voglio attaccare ad esempio se donna D3 G6 non ce l'ha più deve fare F5 però a quel punto ho G4 gratis poi ho manovrette manovrette col cavallo anche se interessanti potrei anticiparlo e giocare G4 adesso però F5 forse la può sempre fare ok donna boh facciamo donna D3 gli facciamo fare sta sta F5 anche se non mi piace troppo devo dire grande le goat cavallo E2 cavallo E2 eh nonno Mimmo frecciatina che che ci piace che ci piace lollo SG grazie mille per la sub ti si vuole bene vabbè in tutto ciò almeno abbiamo più tempo no? abbiamo 2 minuti 50 contro 1 minuto e 40 Fede Hope comunque il moderatore più boomer della storia un gigante torre F8 giochiamo cavallo F4 oh ragazzi due moderatori in chat non so se si percepisce lo spessore di questo canale che aumenta Amuig eh fai fai tanti puzzle tanti 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 puzzle su chess.com e quando hai finito di fare puzzle fai ancora puzzle c5 cavallo H5 adesso proviamo a passare forse anche G per F è già tosta però facciamo cavallo H5 che siamo dei fifoni cavallo H5 se mangia qua facciamo cavallo H2 e poi gli metteremo una cavalla F6 vabbè gli entriamo con tutto vabbè questa ce la mangiamo no questo adesso è gratis yum F6 mangio questo non so non so E6 è una possibilità ma qua mi sembra che la posizione del nero faccia un po' di acqua si ho ringraziato ho ringraziato Fede grazie del remind e qui scacco cavallo H5 cavallo H5 facciamo ammetto di essere leggermente condizionato dal fatto che lui abbia mezzo secondo e questo dobbiamo dircelo con grande chiarezza però vediamo di trovare comunque le mosse migliori per esempio cavallo per C6 dovrebbe essere buona perché semplicemente lui mi deve mangiare la donna io gli mangio la torre lui mangia qui gli faccio torre C8 finale immediatamente vinto ok salutiamo Pride Scene 15 che è già giocato questa gambetto di donna ortodossa che poi si è trasformato in slava che poi è diventata una francese a tutti gli effetti che a quanto pare non è la sua apertura contro i 4 perché si è trovato veramente male a dover difendere contro un attacco sul lato di re bene così a dover difendere